Musica Musica No, ma andò io Dai, non andò io Lei deve venire avanti Avanzi lei avanti avanti di galera ciao Bart ciao lui ciao 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 va bene se sono l'assistente? si informiando il gentile modico che tra 15 minuti avrà inizio lo spettacolo auguri ammorti un buon divertimento da Romeo da Romeo Aurora ha detto che mi sono l'assistente Aurora ha detto che mi sono l'assistente Aurora ha detto che è l'assistente non è l'assistente io che non è l'assistente non è l'assistente a capire non è l'assistente informiando il gentile modico che tra 9-20 avrà inizio lo spettacolo auguriamo a Martin un buon divertimento ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.